Torna anche quest'anno il Festival Internazionale dei Buskers di Scherne di Pineto. La manifestazione è stata la prima rassegna abruzzese delle arti di strada creata sul modello del Festival dei Buskers di Ferrara. Tre giornate dal 15 al 17 di agosto che saranno un tributo all'arte di strada, all'arte circense, alla musica folclorica internazionale. Tre giorni di qualità e bellezza proposti con ironia, virtuosismi e atmosfere immaginifiche. Non abbiamo mai visto fino ad ora in Abruzzo il lavoro che intreccia la musica, l'arte dell'attore, l'arte circense e l'arte nuova dell'acrobazia aerea. Ci sarà anche il gruppo di Uccio Aloisi, uno dei più grandi ricercatori della musica dei cantori del Salento. Ci sarà il Passagallo, che è una grande realtà abruzzese, proiettata su tutta la ricerca della memoria delle genti del Mediterraneo che hanno attraversato questo pezzo di terra, ma che è chiaramente in apertura con tutta l'internazionalità. Direi che sono tre giornate intense, sette postazioni, spettacoli spesso in contemporanea, artisti che però restano due giorni o tre giorni, in modo tale che gli spettatori possano, in orari diversi, godere tutto quello che c'è. Con questo evento si riesce a portare gli artisti di strada e anzi a far conoscere quanti artisti e di che qualità vi è, anche se lo si fa per strada.